Amici di YouTube, bentrovati da Marco Liguori, bentornati sul secondo canale di Marco Liguori. Vi do il benvenuto ad un video piuttosto atipico. In questo video vi svelerò 5 VIP, 5 personaggi famosi che hanno modificato radicalmente il loro aspetto dopo interventi chirurgici. In questo video più di tutti desidero ricevere i vostri commenti e vi ricordo che a 500 like pubblicherò immediatamente un nuovo video senza indugi. Iniziamo immediatamente la nostra carrellata proponendo la trasformazione, il cambiamento di Donatella Versace, la famosa stilista di moda, sorella di Gianni Versace, ha 68 anni e con un patrimonio di ben 400 milioni di dollari, ha evidentemente fatto ricorso alla chirurgia. Vediamo Donatella Versace che prima e dopo è decisamente cambiata. Continuiamo questa carrellata con il grande Michi Rourke, attore tra le altre cose di nove settimane e mezzo in tempi più recenti di The Wrestler, ha cambiato radicalmente il suo aspetto e veniamo ad una bellezza. Carla Bruni. Carla Bruni è cambiata completamente dopo essere stata sotto i ferri, dopo aver fatto uso di chirurgia estetica. Ultimo caso piuttosto particolare è quello dei fratelli Bogdanov, Gritsch e Igor. I due sono stati dei divulgatori scientifici molto polari soprattutto negli anni 90 e come vediamo il loro aspetto è completamente mutato. Dopo essere stati sotto i ferri i fratelli Bogdanov sono morti a pochi giorni di distanza. Il 28 dicembre 2021 è mancato Gritsch e il 3 gennaio 2022 è mancato. Igor Bogdanov, amici di YouTube, spero abbiate gradito la carrellata dei 5 VIP cambiati dalla chirurgia. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando al prossimo video. Ciao! Ciao! Grazie a tutti